ciao amici bentornati nell'episodio 4 di Genshin in italiano l'ultima volta ci siamo fermati con il primo 5 stelle di questo account abbiamo trovato una bellissima jean a pt tipo 15 qualcosa del genere nel banner permanente perché c'è stata reglata una singola cioè una multi perché abbiamo fatto il livello 10 e è uscita jean quindi abbiamo il primo 5 stelle di questo bellissimo account oggi continuiamo con la storia principale e facciamo la nostra solita oretta di gameplay mettendo jean in squadra assolutamente quindi avremo adesso la nostra bellissima jean con noi allora ragazzi l'altra volta siamo rimasti qua di jean non abbiamo fatto assolutamente niente non abbiamo nemmeno parlato ora io molto scioccamente ho messo jean subito al posto del traveler però riflettendoci in questa settimana di tempo che ho avuto modo di pensare su come progredire effettivamente in questa parte del gioco ho pensato un'altra cosa amici miei ho pensato un'altra cosa e adesso ve la dico prima di tutto però invito tutti nuovi se vi va iscrivervi al canale sono una streamer content creator ufficiale di Genshin Impact siamo tutti i giorni sul sito viola tranne il sabato e quindi vi aspettiamo nella nostra community che è qui con me che sta scrivendo vi salutano tutti eccetera eccetera e niente vi aspettiamo vi trovate anche su tutti i social instagram tiktok da tutte le parti quindi vi aspettiamo detto questo ragazzi allora quello che ho pensato è ha senso sostituire il traveler adesso 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 sì e no nel senso potremmo fare un team eterogeneo con quattro elementi è molto interessante ma si dà il caso che la configurazione con il doppio animo è molto molto interessante cioè io avevo quasi pensato di fare uno switch molto rapido così perché perché dovete sapere e questo lo dico principalmente per i nuovi sono diventata io gini intanto dovete sapere che esiste quella che è la risonanza elementale la risonanza elementale vi conferisce dei buff se voi utilizzate due personaggi dello stesso elemento in parti e questo in alcuni casi è molto utile ci sono delle condizioni specifiche tipo i geo più sono meglio è ad esempio infatti è molto forte il team full geo per quanto riguarda gli animo adesso leggeremo insieme i loro vantaggi sono tutte cose molto molto interessanti perché si parla di un riduzione di consumo della stamina del 15 per cento e adesso che siamo inizio gioco abbiamo sbloccato poche statue raccolto pochi animoculus e quindi la nostra stamina è molto molto ridotta è molto utile avere questo perché ci conferisce di avere un 15 per cento nella riduzione di quel che riguarda il fatto che noi consumiamo meno stamina e questo secondo me è fondamentale ora che non possiamo arrampicarci per più di un tot nuotare per più di un tot poi aumenta la speed movement velocità di movimento del 10 per cento anche questo in parti visto che comunque non siamo fortissimi l'avere la possibilità di attaccare più velocemente degli altri o di e poi c'è quest'altro buff qua che dice che riduce il tempo di ricarica del di un abilità dell'abilità di un 5 per cento e anche questo non è male perché vuol dire che abbiamo la skill pronta prima di un 5 per cento che effettivamente è una percentuale veramente esima però è una percentuale di riduzione per quanto riguarda il tempo di ricarica dell'abilità quindi alla fine la fiera ho pensato per ora tanto ok alla fine si worka bene il il crio con il pyro per il melting quindi per il fatto che si scioglie la fusione come viene chiamato però però alla fine amber la giocherei poco al punto di vista pyro più col fatto che un arcera quindi ho deciso di fare questo piccolo cambio quindi stavo pensando di lasciare questo parti quindi mettere me cioè gin in questo caso amber e fishel e poi il traveller per avere queste reazioni elementali quindi io in questo momento sinceramente penso di voler procedere così per quanto riguarda gin bellissima allora virtuoso e rigorosa cavaliere del dente di leone oltre che gran maestra reggente dei cavalieri di favonius di monstat una personcina di poco conto insomma per intendersi allora come arma per ora a gin nell'altra volta abbiamo messo nel messaggio dell'alba lar bringer of dawn e mi sembra per il momento tra tutto quello che ho la scelta più saggia un po di danno critico un po di crisi damage ci può anche stare non abbiamo niente con cui adesso consolarci quindi va benissimo così lei a livello 1 rispetto agli altri quindi adesso cercheremo appunto di farle uccidere qualcuno giusto per livellarla leggermente gli altri sono al 10 potremmo in realtà iniziare a utilizzare qualche librettino di questi perché questi libretti veramente a consumarne una decina faccio già praticamente quasi il livello che mi serve e quei libretti li vediamo sono veramente esimi comunque il banner dei wish si è aggiornato non pulleremo nemmeno questa volta ragazzi viene nonostante il banner sia aggiornato perché come vi ho esorientemente detto anche nelle parti scorse non sono interessata a prendere per il momento né Hayato né Raiden non che io in due multi possa trovarli ovviamente però poi è stato discorso che non possiamo andare fisicamente ad Inazuma fino a che non abbiamo completato tutta l'arch conquest di monstrad e tutta l'arch conquest di yue quest'account nasce con l'obiettivo di goderci le arch conquest che ci siamo visti in inglese quindi non rusherò di certo per andare a prendere i materiali per farmare per uno dei due quindi mi terrò le prime agents per le prossime patch che probabilmente ci sarà sicuramente la festività dedicata al capodanno cinese e l'antenne rite contorneranno personaggi tipo di yue quindi potremmo rivedere Utao potremmo rivedere che ne so Scenega, New Zone, Lieland, ce ne sono tantissimi e ciao eccetera eccetera quindi io e Banner li lascio così farmeremo un'altra ventina di giorni effettivi e ci riporteremo a casa poi qualcos'altro staremo a vedere staremo a vedere staremo a vedere allora con la storia siamo rimasti qua siamo esattamente rimasti inseguendo le ombre la persona che Diluc ha chiamato si è scoperta a essere gine dei cavalieri di Favonius che noi abbiamo trovato tra l'altro dopo qualche discussione è emerso che sono stati Fatui a rubare la Lila Sacra Celeste dovrai recuperarla per salvare Dvalin alla luce di questo mi sembra dobbiamo fare un domino o qualcosa del genere se non sbaglio quindi proprio per questo motivo potrebbe tornare Utao assolutamente sì per questo motivo non sapevo se mi conveniva livellare leggermente con i libretti Jin perché a me pare che adesso dobbiamo fare un domain e quindi forse portare Jin almeno a livello 10 come gli altri ci garantisce un minimo di utilità in più del personaggio perché adesso lì abbiamo un domain da fare o comunque sì è un dungeon o qualcosa del genere che dite glieli diamo questi libretti bianchi bianchi quelli che si trovano nelle casse a Jin per portarla al 10 e metterla in linea con il party? giusto per non lasciarla proprio all'1 perché in tal domino sono quelli bianchi si apre le casse quindi io direi che ne servono veramente una trentina mi sembra no guà non mi interessa portarla al 12 voglio fare 9 livelli tranquillamente per vedere dove arriviamo così ta bene usati intanto Jin è un personaggio sicuramente sarà uno dei primi che verranno upgradeati veramente in questo account buttiamole addosso giusto due fiorellini e qualcosa non avrò statistiche buone però ecco questo energy recharge può essere carino ci mettiamo insieme un attacchino percentuale sotto poi parleremo meglio gli artefatti ma se non ve ne ho parlato già in maniera approfondita c'è un motivo e il motivo fondamentale è che praticamente per il momento non ha senso parlare gli artefatti e non ne avrà senso per veramente un sacco di tempo ragazzi quindi alla luce di questo mi raccomando mi raccomando alla luce di questo non ne parleremo per un po' se volete avere maggiori delucidazioni sul perché non ne parliamo c'è la guida qua su youtube come trovate questa guida c'è una sezione che si chiama guida apposta che serve proprio per consigliare i beginner e tra le regole c'è queste cose quindi ci siamo bene possiamo direi procedere in questo momento ok io ringrazio tutti i nuovi follow ragazzi ben arrivati benarrivatissimi allora possiamo procedere parti attivo si va grazie mille ven e grazie mille vinks grazie mille benarrivatissimi ragazzi ah ci fanno provare diluc un incubo io non pronta io non pronta io non pronta ci fanno provare diluc chi se lo ricordava oh cattivissimo non me l'aspettavo mica tanto finchè si fa male diluc comunque si questo è un account secondario gioco dal day one e abbiamo iniziato un account secondario per informare un po' tutti i nuovi mi raccomando le casse alla diluc si gioca con questa combo di E la dovete cliccare tre volte e fa tre stack di attacchi differenti a inizio gioco penso che sia veramente un personaggio fondamentale tra l'altro ragazzi in questo domain l'hanno messo con quella che è la sua arma alla wolf gravestone che io sul principale ancora non ho ragazzi e guardate un po' guardate un po' chi c'è qua con la sua wolf gravestone incredibile e vabbè i pezzetti che tu gli hanno mollato che grande build vedo delle grandi statistiche la combo no ma la combo della skill è bella io non è che odio diluc per il suo concept di skill non mi dispiace che secondo me è un po' indebolito rispetto ad altri però di per sei danni di fa no no non mangiarmi ma sei un essere umano le difese di questo piano sono state annientate credevo fosse un attacco dell'ordine dell'abisso siamo qui per la lira celeste sacra come fate a sapere che la lira è qui il luogo in cui è custodita è chiuso a chiave troverete la mia chiave proseguendo nelle rovine ma non fatemi del male non so che guardia ce l'abbia ma potete scoprirlo non appena le avete trovate questo tizio sembra sul punto di farsela sotto pensa per te uno dei messaggeri è già a monstad è signora quando vi acciufferà vi appenderà a testa in giù e vi torturerà quando arriverà quel momento non osate nominarvi è signora 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 bellissimo bellissimo proseguiamo bene chi siete come avete fatto a entrare qui dentro? siamo dei mediatori dell'associazione per lo sviluppo delle relazioni fra Nenzaya e Mondstadt mai sentito nominare e voi che ci fate qua? vogliamo prendere in prestito la dira sacra celeste è palesemente una bugia non vi è venuto in mente niente di meglio? e come pensate di prenderla in prestito? ecco una mela wow pensate di potermi guardare dall'alto in basso eh la volontà di Nenzaya è solida quanto il permafrost non mi arrenderò vabbè amico io va bene io menerò la Shishin allora me la rifarò con lei ecco Jin che tiene il suo attacco caricato e poi bam 124 di danno penso sia il record di danno di questo account incredibile doppio animo ci piace tauntiamola e poi a distanza attacco per il meme vi metto Diluc che qua ve lo fanno provare vi fanno dire mamma mia questo è fortissimo 270 di danno cosa fa? tira la bar sono una fenice wow ok prima l'abbiamo sconfitto tra l'altro abbiamo anche sbloccato qua cose sblocca male per bene le cose ok eseguiamo chiodo le Shishin all'inizio santissimo poi la cosa che io odio era il fatto che evocano quei due o tre fantasmini e quelli cioè sono fantasmini i pistrellini chiamiamoli come ci pare e quindi quello era fastidiosissimo andiamo a parlare con un altro tipo ciao guardia timida più fortissimo lisa per me personalmente è più fortissimo ma perché è anche più semplice da usare chi siete? cosa ci fate qui? ahhh arrediti nessuno vorrà salvarti hai già sconfitto tutte le altre guardie? dopo esaccalci nel sedere cosa? non ho paura di te un agente verrà aiutarmi è alla coda di gatta ubriacarsi wow ahhh ehhh ora basta sono un pro abitante di genenzraia non vacillerò e vabbè non vacillerò mi hai mandato contro quello non è che sei stato te salve lei ha lo scudo questo è importante ragazzi perché quando ci sono questi con questi shield di legno la cosa migliore che si può fare in questi casi è bruciare gli shield perché poi diventano dei pg normali che vengono soltanto picchiati dopo smazzettati come solo noi sappiamo fare però prima va eliminato lo shield va eliminato lo shield prima assolutamente e quindi questo è un piccolo consiglio che vi do quando dovete affrontare questo tipo di nemici non sono degli shield che buttate giù come con le claymore cosa che si fa molto spesso ma in altri casi serve necessariamente che voi utilizzate il pyro per tirare giù perfetto e anche questo abbiamo battuto andiamo dai prossimi le mettiamo jean che è più bella da vedere eccoci qua ah qui ci sono questi simpatici ovviamente queste farfalline non fanno gran danno comunque questa è la base di jean c'è quest'area all'interno della quale lei si cura e fa del danno eh quando la applica la burst poi non fa più danno per tutto il resto del tempo però lei dentro a quest'area mentre mena o switchando si cura anche quindi è molto utile per quello ragazzi jean perché comunque crea un'area all'interno della quale ci si cura cassa abbiamo trovato del frumento andiamo di qua no jean è molto molto carina io sono molto contenta di averla trovata sono sincera sono molto soddisfatta esamina un cavolo esamina un ravanello esamina un pomodoro vedete li raggruppiamo tutti e sbam quindi immaginate uno ovviamente la builda decentemente poi è interessante anche questa meccanica di di raggruppare il tutto ma noterete vi assicuro che è una cosa ricorrente in molti animo la loro appunto capacità di raggruppare i team insomma i nemici in generale ecco la chiave nascosta qui c'era una cassa? no qui c'era un cavolo in tutti i senti nel senso che non c'era niente ma che c'era effettivamente un cavolo dato che vedete appunto dicevo con sacroso la troverete con la stessa gin la troverete con casua con venti quindi è una cosa molto molto frequente infatti a me gli animo piacciono tanto questa meccanica di raggruppare i nemici a me piace sempre moltissimo in generale in tutti i giochi mi piace sempre che ci sia quel crowd controller che ti permette un po' di controllare te quello che fanno ovviamente non vale per tutti i tipi di nemici ossia quelli di una certa dimensione di stazza ovviamente non possono essere fatti volare cioè non è che potete sobbalsare un gigante però tutti quelli di dimensioni in media piccola invece svolacchiano di qua e di là eccola qua ragazzi la lira sacra eccola lì la nostra lira e qui abbiamo il primo agente fatui zamenoff dei fatui agente fiamme allora io penso di averlo fatto non in maniera molto complicata però vi assicuro che questi tipi dei fatui erano un gran dramma alle prime volte da affrontare non so se anche per voi è stata così vi parlo della mia esperienza personale nella mia esperienza personale è sempre stato un gran dramma perché a parte vabbè diventano invisibili ma quello lo counterate abbastanza bene perché appunto anche se semplicemente ozzo vi permette di vedere dov'è il tipo perché lo colpisce però tiravano le volte che vittavano tiravano delle sleppe micidiali e quello effettivamente era un problema era un problema quando menano menano tanto quella è l'unica cosa vedete sempre lì lo vedete lo colpite con l'elemento e lui diventa visibile quindi non è che non lo trovate più però ci sono anche le sue proiezioni quindi attenzione a hittare quello giusto però ozzo teoricamente quando è più vicino lo vede e quindi questo ci permette anche di orientarci noi ecco qua tra poco Jin dovrebbe avere pronta la bars se avessi hittato lì forse era meglio qui c'è Diluc che è leggermente più avanti le nostre anche perché Diluc è al 18 noi ce li abbiamo tutti al 10 perché non ho sprecato risorse per il momento esatto quando fanno la loro di bars sono abbastanza una rottura eccolo qua ha sbattuto in maniera molto grave contro lo spingolo della gabbia vai ciao amico eccoci qua lira sacra presa eccola qua lira sacra celeste parla compagno ok la lira è finalmente al sicuro ma che fine ha fatto il tizio era qui fino a un secondo fa signora vi distruggerà le canzoni che i bardi cantarono canteranno sulla vostra fine saranno così terrificanti che gli abitanti di monsado non riusciranno più a dormire per gli incubi si dà tante arie eppure alla fine è scappato a gambe levate che vigliacco effettivamente una volta tanto il palmo ha ragione perfetto preparatevi ragazzi perché adesso arriviamo in un punto della storia abbastanza interessante ricordate bene tutto quello appunto che ci è stato detto adesso personaggi menzionati mai sentiti prima che adesso vengono menzionati eccetera eccetera come si fa a aumentare la stamina consegnando gli animoculus alle statue sul video youtube della guida che sto facendo ci ha spiegato anche quello c'è anche lo screen di quest'area in cui si trovano tutti i vari punti quindi se ti recuperi la parte scorsa rispetto a questo troverai un bello screen con tutta la prima area di gioco e con le stelline messe proprio nei punti in cui sono presenti gli animoculus allora possiamo procedere tra l'altro abbiamo fatto la R quindi andiamo a consegnare che ci danno delle ricompense assolutamente sì Eli ottima idea bene riscatta la ricompensa avventura abbiamo fatto un sacco di livelli in più quindi ci meritiamo di prendere le nostre ricompense livello 8 livello 9 livello 10 e otteniamo questa che è molto interessante la prototype rancore o prototipo del rancore per colpo assegno gli attacchi normali o caricati aumentano l'attacco e la difesa di un 4% per 6 secondi cumulabile fino a 4 volte si può verificare una sola volta ogni 0,3 secondi buona per i danni fisici sapete chi è che si filda bene anche con il danno fisico oltre alla versione un po' support questa signorina qui Keia è proprio la sua arma però non ho intenzione di usare Keia adesso per i motivi che vi ho spiegato quindi sapete chi altro si build bene con un'arma fisica? la signorina qui assolutamente sì si possono fare più build sui vari personaggi tenete di conto che a parte alcune pochissime eccezioni la maggior parte dei personaggi hanno una build ma che può essere la migliore ma ce ne sono anche tante altre quindi a parte l'esclusività proprio tipo Raiden che Raiden la fate soltanto in un modo visto che Raiden è uscita da poco e quindi molti di voi l'avranno pullata Raiden si fa con 4 emblem ma è tanta energy recharge rate e damage Jin potete farmela sia un po' più support sia un po' più DPS le impossibilità sono tante quindi vi dico questo comunque interrompendo la diretta di qua raghi perché tanto appunto siete voi sempre anche di là quindi è inutile tenerla aperta che sennò slaghettiamo anche e quindi facciamo così e voglio fare un'altra roba tra l'altro sistema un'altra cosuccia faccio così ok ok e usciamo qua Oswaldog grazie per il follow benvenuti in live perfetto ci siamo possiamo proseguire allora e ciao canando e buon pomeriggio continuiamo riporta la sacra alla taverna non voglio entrare nel dettaglio su come buildare i personaggi ancora perché questa guida è dall'inizio e all'inizio i personaggi non si buildano quindi le domande relative alla build dei singoli personaggi fatemele nelle live che tanto in tutte le live di Genshin vi rispondo alle build ora in questo momento concentriamoci su quello che succede all'interno di queste parti così che anche chi sta guardando magari soltanto il video su youtube e non viene sul sito viola anche se vi consiglio di venire ha una visione su quello effettivamente che facciamo in live qua bentornati dunque questa è la lira sacra siete riusciti a recuperarla il motivo del vento in movimento intagliato nel legno e le corde sono ancora piacevoli al tatto ah quanti ricordi che ne pensi venti pensi di poter evocare Dvalin anche se questa è la vera lira non so se funzionerà come puoi vedere questo strumento ha più di mille anni di storia ha quasi esaurito il suo potere di animo è impossibile utilizzarlo in queste condizioni nemmeno per suonare una musica a livello della taverna di Diluc guarda che i bardi arrivano a lottare tra loro per poter suonare nella mia taverna attento a quello che dici padron Diluc è davvero importante in questo momento? e tu? questa scena è iconica ma che te ridi ma che te ridi ma che te ridi il meme supremo ragazzi ma che te ridi in ogni caso non possiamo usarla per evocare Dvalin la lira in sé funziona ma le corde tocca a te straniero parli di me? rilassati non serve ripararla è solo che l'intensità del potere di animo al suo interno sia notevolmente ridotta ma Wittile hai ancora con te le lacrima di cristallo di Dvalin? si che ce l'abbiamo ottimo prova a usarla sulla lira sacra lascia che gli dai un'occhiata riparazione completata una singola goccia una singola goccia tra l'altro queste meccaniche non ci sono più andando avanti nel gioco ha funzionato come previsto che splendore giovanile ti fai complimenti da sola? davvero? parlavo della lira sacra no anche te Gin grazie a Mawitiel che ha purificato il cristallo la lira sacra smetterà di perdere potere detto ciò il suo potere non è ancora stato ripristinato del tutto ci farebbe molto comodo trovare altre lacrime ti inviteremo noi come possiamo trovarne delle altre? immagino che Dvalin sarà già piangendo da solo immerso nel dolore in un luogo isolato Dvalin povero cucciolo questo non è un compito che un cavaliere onorario può risolvere da solo chiederò aiuto anche agli altri cavalieri una volta trovata la lacrima di cristallo lascia che sia Mawitiel a occuparsi di purificarla ci penso io gli eroi si aiutano a vicenda e insieme stanno per intraprendere una nuova avventura che emozione lasciate che compongo una canzone in vostro onore è tutto quello che riesci a fare? una canzoncina? non varrei granché come bardo se non riuscissi a fare nemmeno questo no? bah a me fai la faccia tosta ti meriti proprio un soprannome bruttissimo ah poi non conosce il soprannome perfetto da ora in poi tutti ti conosceranno come bardo storato livello per tutti e via lacrime perdute raggiunge il tempio dei milleventi e si procede e si procede e si procede qui ragazzi bisogna iniziare a fare un pezzetto di strada io fortunatamente ho fatto questa cosa abbastanza furbetta di portarmi avanti nel senso del sbloccare i teleport in quest'area eccetera quindi non dobbiamo farcela tutta a piedi ma basta arrivare qui grazie al cielo meno male una volta tanto che esploro faccio qualcosa di buono e non dobbiamo farci 600 km a piedi procediamo raggiungere il tempio dei milleventi andiamo eccoci qua ragazzi tempio dei milleventi sconfiggi i mostri a guardia delle rovine per completare la sfida questo è interessante ragazzi questo è il primo ruin guard che affrontiamo allora questo è un gameplay carino io non sono molto brava contro i ruin guard perché bisogna avere mira all'occhio centrale anche quando è di schiena va bene e hittarlo come ho fatto adesso se l'ho hittato una seconda volta lo atterrate e mentre lo atterrate lo potete eliminare liberamente meno male nella fase di dimostrazione sono stata così brava da atterrarlo e riuscire a fargli subito tutto il danno maggiore che potevo però ragazzi all'inizio per capire sta roba ci ho messo un attimino quindi ovviamente lui si tira su e diventa risvegliato per un pochino non possiamo fare lo stesso danno quindi dobbiamo soltanto un po' schivare consiglio correte quando stanno avvicinandosi così gli schivate quelli dobbiamo quasi ad entrare un altro pochetto ha sempre il solito tipo di movimento la cosa che ho di più quando inizia a girare su se stesso qui tira pugno pugno e poi salta e voi schivate adesso è di nuovo hittabile non ha più Laura maledetta attorno però è troppo vicino non so se lo prenderò e invece si ok atterrato di nuovo piazziamo anche odds e via e così facendo spero spero che inizia a girare su se stesso perché vi giuro quando gira su se stesso non lo posso sopportare paratevi anche con delle colonne serve apposta quando gira su se stesso non lo sopporto speriamo eviti quel tipo di movimento perché poi non riesco più a prendere ok rispara di nuovo perfetto ok adesso è di nuovo hittabile ecco questa qua è una cosa terribile ve lo dico in anticipo quando inizia a roteare così fuggite più che potete per il semplice fatto che quando rotea non si ferma e se vi sbatte contro una parete mentre sta roteando diventa veramente difficile poi liberarsi quindi attenzione quando rotea il più lontani possibili e adesso vedete la seconda volta non l'ho hittato e quindi non gli posso più fare male ok dobbiamo aspettare che Laura intorno ah ecco è scomparsa di nuovo quindi loro li possiamo colpire non l'ho mirato adesso preso però non al centro poi oh amico stai fermo cioè basta stare in movimento tapparete perfetto il move set quello dei pugni non lo fa più? no fa ancora questo e io allora ne approfitto ora è giù aspettavamo già colpito prima perfetto e via torniamo su amber ok ancora ora è di nuovo stabile ok e via ragazzi ragazzi la cosa che mi fa ridere è che adesso ve lo può confermare anche chi è in chat cioè questi noi li one shottiamo veramente letteralmente li one shottiamo letteralmente li one shottiamo quindi fa ridere quanto ci vuole per fare questa parte adesso così sì ma noi siamo abituati completamente a one shottarli comunque missione compiuta ottieni la lacrima di valin che è se non sbaglio da qualche parte tipo in cima là c'è la mia russa ecco qua eccola qua eccoci qua parla per te non mi ha shotto nessuno ahahahahah Paimon non pensava che avremmo trovato le lacrime di valin in un luogo del genere in quanto cavalieri ci è stato insegnato ad affinare le nostre capacità investigative wow davvero notevole bene e un'altra lacrima l'abbiamo recuperata ma non è l'unica dovevo andare da un'altra parte raggiungi le rovine nella foresta ecco i ragazzi e non ho sbloccato i teleport quindi per fortuna però c'è questo e proseguiremo per qua proseguiremo di qua qui c'è una nemoculus però devo segnare che non lo prendo adesso prendo e seguo solo la strada lo prendo dopo quando facciamo la trama seguiamo la trama l'ho rifatto tipo tre volte ma lo sai che forse una volta l'ho rifatto anch'io ora non mi ricordo eh però secondo me forse una volta l'ho rifatto anch'io ma per il semplice fatto che per entrare nella meccanica all'inizio ora tante cose che ci sembrano scontate prima non lo erano anche solo tutte le reazioni elementali capire quale stare meglio con quale ma non è tutto così immediato per noi che giochiamo da tanto ormai si tratta praticamente di pane quotidiano però mettiamoci un altro negli occhi del nuovo player che magari non si è mai approcciato a un gioco tipo Genshin Impact cioè è difficile è difficile entrare nella meccanica ognuno ha i suoi tempi c'è chi è più skillato chi è meno skillato ma parliamo del classico nuovo player come può essere qualcuno che sta guardando questa serie questo video che non si è mai approcciato a un gioco del genere perché era troppo piccolo quando sono usciti tutti gli altri giochi simili a questa tipologia per quanto Genshin sia unico c'è erano piccoletti magari la prima volta si approcciavano a un gioco serio che hanno magari 12 ma anche meno di anni e 10 non è tutto immediato ragazzi l'italiano ha portato tutti ha portato sia magari quelli più grandi che conoscono meno la lingua perché non l'hanno studiata quando erano alle scuole sia quelli più piccoli che ancora ovviamente non hanno dimestichezza con una lingua diversa dalla propria sia tutti quelli intermedi che sono delle pippie inglese e che avevano detto non giocherò mai a questo gioco se non me lo rendono in italiano comunque devo rivellare un po' i miei pg perché sono all'11 sono all'11 e tutti gli altri sono al 18 perché nella loro ottica i libri li ho usati e effettivamente quelli bianchi sarei quasi tentata di usarli veramente giusto per rimettermi in pari con il mondo non che siano difficili da battere per carità e ci metto soltanto leggermente di più ma la lingua può essere qualsiasi cosa ragazzi ma non c'è niente di male ognuno ha i suoi punti deboli e i suoi punti di forza io sono più portata ad esempio nello studiare una lingua come l'inglese che nel fare delle equazioni di matematica magari c'è qualcuno in questa chat che ha matematica a 10 e inglese a 5 ma è normale è normalissimo è normalissimo infatti per me è così adesso è più facile anche se adesso sono R43 ma capisco ancora alcune cose ma giusto ma sì ma sì assolutamente ma io immagino che anche tanti che effettivamente giocavano a diamo un po' di libri dai facciamo fare livello 15 a tutti se riesco che giocavano appunto a Genshin in italiano cioè in inglese scusate ma tanti l'avranno messo in italiano perché è più comodo magari è più immediato allora vediamo quanti riusciamo a portare su guarda così Ginn e porterei Fischel che tanto Fischel è un personaggio che sicuramente userò anche più avanti a differenza di Amber e del Traveler quindi darei una priorità a loro e farei così così a meno più schillati loro sono tanto finché si parla di libri bianchi quelli vi consiglio di usarli quelli viola per il momento teneteli stretti come loro ve lo dico da giocatrice che anche ora tuttora piange se non trova libri viola a bassa ufficienza a giro trovando casse e cose varie che si trovano realmente poco perché si trovano soltanto nelle casse più rare eccetera eccetera però vi assicuro che sono utili tutto è sassi prendete sempre tutto ragazzi prendete sempre tutto e colpite anche gli alberi ve l'avevo già detto ma ve lo ridico quella casa si apre trovando il fantasmino che è probabilmente quello che va ricondotto esattamente a quella struttura sono abbastanza certa che sia lui per la distanza però stiamo a vedere ma penso che ci condurrà proprio lì alla cassa e una volta condotti alla cassa ragazzi noi semplicemente sbloccheremo la cassa grazie al fantasmino che si pone all'interno della sua statuetta è pieno di questo tipo di meccaniche il giro per Mondstadt ce ne sono delle meccaniche uguali agli UE e ci sono delle meccaniche ovviamente anche differenti che sfruttano l'elemento Geo agli UE più avanti gli altri elementi vedete l'abbiamo posizionato adesso ci serve il secondo perché sono due una volta trovato anche il secondo è sempre più a giro eccolo la potremo sbloccare la cassa ciao Proci buona serata e ciao Sunset bentornata è vero anche quella è vero di fare la visione magica che non la faccio mai in realtà non le faccio mai perché mi piace idea di cercarla però è vero se fate la visione vi permette appunto di visualizzare la direzione in cui si trova il Sili io personalmente non la faccio mai grazie per il follow benvenuti in live allora proseguiamo eccoci qua al tempio di venti però anche quello può essere utile molto utile ciao Meet buon pomeriggio eccoci qua ragazzi raggiungi le rovine della foresta ed ecco qua abbiamo un nemico non molto simpatico per noi perché questi tipetti qua non molto simpatici sono Anemo quindi i danni elementali di Jin e del Traveler a questo tipo non fanno assolutamente niente la maggior parte di anni si fanno o danni fisici ed è il motivo per quale vi ho detto Jin è molto buona anche con un'arma fisica o se no con gli elementi quindi con le frecce di Amber e il piccione barra corvo della nostra cara Fisher allora però se utilizzate l'attacco base della nostra Jin o quello del Traveler va bene l'attacco bianco si chiama perché è il normal attack il normal attack qui si vola aspettando che scenda si va tutti gli attacchi bianchi così 16 alla volta questi per me erano più una rottura perché io trovo i venti all'inizio del gioco il proprio banner assoluto che ovviamente conto di loro non era forte cioè non è che non era forte il venti era forte ma non faceva niente di utile in quel caso vedete però se facciamo più danno se usiamo il fuoco mentre ci ha applicato l'elettro questo è un esempio di si chiama sovraccarico in italiano overloaded in inglese però per questo ci vuole un po' adesso piazziamo odds e tiriamo colpi con fish adesso schiviamo no dove mi è svirgolato il controller ragazzi vi giuro sembrava di voi non ci vedessi da dove l'ho tirato mi ha fatto apposta giuro mi è legge per vedere il live allora ok se beva completamente non sapevo quello che stavo facendo da come l'ho tirata da quanto giochi? dal giorno in cui il gioco è uscito questo è il mio account secondario perché sto facendo la guida per youtube che mi sta diventando tra l'altro un sacco e che state amando tantissimo il primo capitolo della guida su youtube è il video in evidenza sul canale ha più di 4000 visualizzazioni quindi grazie a tutti se continuerete a dargli tutto questo affetto la farò solo che volentieri ciao paolo grazie per essere qui stasera come stai? ok è quasi morto una vita per fare questo coso weh ciao abbiamo sbloccato questo tempio addentrate nelle rovine della foresta top mi sembra perfetto tutto bene tutto bene paolo quindi mi raccomando passate su youtube ragazzi anche per rivedervi perché voi che scrivete durante la live siete qui sotto eh durante i video su youtube vi si vede quindi se vi fa piacere anche rivedere il vostro contributo alla live non mancate di essere qui sotto vedete? livello gruppo raccomandato 18 livello gruppo raccomandato 18 nel mio gruppo al 18 non c'è nessuno abbiamo 2.15 12.12 ma sinceramente io penso che siamo in grado di farlo tranquillamente lo stesso ci proverei che dite? che dite? proviamo? tra l'altro veramente ragazzi siamo quasi 3.000 iscritti su youtube prima di questa guida eravamo tipo 2.500 vuol dire che in questo mesetto di uscita di Genshin in italiano tantissimi di voi hanno deciso di iscriversi quindi grazie mille per il sostegno in generale veramente parte della visione periferica per i sili è vero mi hai salvato la vita perché io sto tipo continuando una quest che tipo avevo incominciato quando avevo iniziato il gioco cioè a marzo circa e non riuscivo a trovare un sili ho cercato anche su internet tutti e non ce l'avevano tranne io e pensavo che ero io il problema una domanda per confermare la funzione anche quando con quegli arancioni giusto? esatto esattamente funziona tutto così non ti preoccupare io ho capito il concetto andiamo alla questa sfida ragazzi vediamo se ce la facciamo vediamo se ce la facciamo dobbiamo crederci vediamo vediamo come va a finire questa storia vediamo livello 18 consigliato consigliano il Crio tra l'altro consigliano il Crio diamoglielo in questo caso perché se c'è qualche squadra controllate molto bene il consiglio del domain perché se c'è qualche struttura che dovete attivare soltanto con il Crio con determinate condizioni dovete rifare il domain da capo e ve lo dico perché una volta mi ricordo che c'era un domain che serviva per forza un danno di fuoco a distanza quindi l'arco di Amber era fondamentale ma si parla che ero già a R50 e passa e io rimasi distrutta che ero a fine domain e dovete rifarlo da capo perché se no non riuscivo a fare in tempo una roba roba folle roba folle mi serviva un arco pyro Amber perché non c'era ancora io e mia quindi bene possiamo andare proviamo il team è pronto il livello del team è inferiore eccetera eccetera ma noi ci proviamo lo stesso ci proviamo lo stesso cassa siamo quasi livello 12 ovviamente se li colpite la testa come in tutti i giochi se fate il classico headshot fate più male e nel caso di questi li sbilanciate anche infatti vedete lui non riesce ad attaccare cade in terra si rialza io ho la skill pronta di nuovo e lo rimeno quindi anche la mira è importante ma io questo non ve lo posso insegnare perché o stanno fermi come questo impalato o se no non c'è verso quindi qui c'è nulla c'è tizi dalle due lati ok iniziamo da questo non l'ho preso ovviamente la mia mira è impeccabile ragazzi quando devo fare le cose in movimento è veramente un dramma infatti infatti cioè io potrei andare teoricamente lì però almeno un colpo a distanza volevo tirarglielo però non gli tolgo niente quindi in questi casi si prediligono gli attacchi frontali io sono più per questo tipo di attacco eh vedi la cosa del headshot non la sapevo mica eh ma mica si frigge con l'acqua qua eh la guida è per questo perché anche insegna cose a chi magari gioca da più tempo ma che non ci aveva fatto caso funziona anche quello è una questione di mira quindi non me ne avete magari sentito parlare spesso lì però c'è un barile che esplode basta prendere quello se lo prendo ho preso la cassa accanto eccolo vai boom ho dovuto in terra e poi li planiamo in fronte ottimo questi due li prendiamo così Turbinio abbiamo da curare un po' tutti quindi ne approfitterei una bella curetta di massa vedete che bello Gin tirate lei ma curate tutti cioè non dovete switchare per curare ha curato tutto il party anche questo è molto importante cioè lei tira la burst ma non è che dovete mettere quello con meno vita in battaglia rischiando che si faccia ancora più male basta semplicemente tirare la burst di Gin veramente veramente un animo molto forte poi gli animo sono rinomati per questa loro capacità di rigenerare le particelle velocemente e quindi arrivare prima di tirare la burst anche quello è molto utile consiglio vivamente almeno un animo in parti vi salva la vita almeno che non facciate o il classico team full geo o un team perma freeze o un team che sfrutta l'hyper bloom che è la nuova reazione che c'è da poco che mette insieme il dendro l'elettro e anche l'idro e ha creato un qualcosa di troppo rotto per essere vero ve lo assicuro ve lo assicuro chi sta conoscendo insieme a me da qualche mese a questa parte da quando è arrivata a Sumerio la regione nuova dendro questo nuovo tipo di reazione che prevede appunto il quicken il bloom l'hyper bloom eccetera veramente noi siamo scioccati da quanto sia forte da quanto sia forte il dendro come reazione ok gina arrampicati e proseguiamo ma ne parleremo più avanti quando in quest'account troveremo un personaggio dendro o un personaggio idro potremo ancora parlarne so che rimango un po' limitata ora all'inizio con questo discorso e non pulliamo fino all'arrivo della prossima patch ma alla fine 20 giorni potrebbe potenzializzare potenzialmente arrivare un personaggio che pulliamo quindi ci sta tutto bene da free to play se ho kaching c1 conviene pullare per raiden in realtà si gaia grazie per il follow benvenuti in live in realtà si perché raiden è una sub dps e kaching invece è una main dps anzi potresti sfruttarle insieme elettro batteria per kaching ti metti kaching in party con raiden che appunto buffa con l'elettro e poi ci metti insieme un dendro assolutamente ne hai assolutamente bisogno che sia con lei che sia il traveler che sia naida se ce l'hai tanto meglio e poi come ultimo puoi decidere o se fare proprio l'hyper bloom totale quindi metti un idro che può essere mona se hai bisogno di un support potrebbe essere una barbara o una kokomi che barbara è anche feature play come personaggio quindi facile da ottenere eccetera eccetera o se no puoi sfruttare anche un'altra reazione che è molto carina che è quella del burning utilizzando bennett che è un ottimo support pyro ad esempio o se vuoi mettere uno shielder c'è anche il nostro amico toma comunque non è un'idea sciocca non è un'idea sciocca l'idea sciocca è dire metto barbara in team se ho kokomi metto shinkyu in team meso yelan queste sono le idee un pochino più bislacche perché il personaggio non vi dico che è la stessa identica cosa ma fa un qualcosa di molto simile ma quando i personaggi non sono identici non importa se sono lo stesso elemento nel party ovviamente a meno che non siano geo non ha senso mettere un team con appunto raiden kishin e poi vai a metterci anche fish l'elisa allora ti dicono lì c'è qualcosa che non torna però se andiamo a sfruttare le reazioni in maniera intelligente due personaggi dello stesso team che hanno lo stesso elemento possono essere utili veramente esempio banale due animo che vi ho letto prima tutte le statistiche che vi buffano è veramente utile come cosa chi manca l'appello oh ecco vedete ragazzi perché servivano l'elettro e il krio perché per tirare giù lo shield di questo abyss mage è necessario utilizzare gli elementi che gli buttano giù lo shield krio elettro e idro ma almeno che uno non abbia trovato un idro pullando qui l'idro non si può avere ancora perché non ce l'abbiamo quindi era fondamentale avere kaya in questo party per tirare giù lo shield ora che lo shield è stato tirato giù usate chi vi pare per menarlo ben bene tra l'altro kaya è quasi mortuto ma tanto facciamo così facciamo così facciamo così l'importante è tenerlo sempre sotto colpi se lo teniamo sempre sotto colpi non rigenerà lo scudo se però lo perdiamo per un po' di vista lui fa il suo incantesimo magico e sicura quindi attenzione anche a quello menate menate gli abyss mage nel momento in cui gli tirate giù gli shield elementali ed eccoci arrivati a fine del domain e qui dovremo trovare la nostra lacrima di dvalin che stavamo cercando a te mi controllare se qui c'è una cassa non mi sembra però un giretto non ce lo so di nessuno ok no tutto a posto golosa questa cassa sì questo è il baule lussoso la luxury chest la luxury chest che è la chest più rara da un punto di vista di ricompense che potete trovare in gioco ora in questo caso ci ha dato la lacrima però di solito ci dà libri viola e ci dà materiali veramente interessanti più un bel po' di primogenes quindi noi felici abbiamo finito che sudata è troppo presto per rilassarsi ancora non abbiamo finito di preoccuparci di terrore alato dall'altro non è da escludere che i fatui stiano architettando qualcosa missione compiuta livello 12 ragazzi a r12 dalla r16 in poi potrete fare le coop potremo fare le coop vorremmo fare un momento di farming in cui qualcuno viene a darmi una mano vado un attimo qua perché consegniamo il livello ragazzi ah scusate io sto funzionando il livello ma qua si parla di incarichi ufficialmente ragazzi livello 12 abbiamo sbloccato le daily quest scusate io stavo schippando tutto ma per il semplice fatto che appunto ero tranquilla ero tranquilla perché è così ma no a livello 12 ve lo spiego adesso io a parole si sbloccano questi puntini viola sulla mappa apri la mappa per vedere l'area per gli eventi in corso raggiunge un'area per conoscere gli eventi in corso in quella zona il manuale dell'avventuriale ti trae le tracce di molte cose controllo regolarmente questi puntini sono le daily quest missioni giornaliere ce ne sono 4 ogni giorno che si aggiornano con l'aggiornamento del giorno su Genshin che capita di notte tipo alle 3-4 di notte e facendole tutti e 4 potete tornare poi da Caterine consegnare le vostre quest e questo vi darà delle prime agents ma attenti bene fare le singole quest vi darà delle prime agents quindi alla fine della fiera tenete prime agents per 4 volte più quelle che vi da Caterine dopo per ringraziarvi di aver fatto tutte le daily io alla luce di questo farei le prime daily in assoluto del nostro account prima consegnerei il nostro livello riscatta le ricompense del grado avventura livello 12 abbiamo ottenuto 50 prime agents una lunetta e altri materiali e adesso andremo a fare quelle che sono le daily aprendo semplicemente la mappa ragazzi vedrete questi puntini puntino 1 puntino 2 puntino 3 qua giù in fondo e puntino 4 di qua facendole tutte e 4 otterremo appunto le ricompense sono un po' una condanna perché il giorno che vi dimenticate delle daily vi dimenticate anche delle prime agents qua potete mettere dove volete selezionare le daily cioè in quale regione ovviamente noi per il momento abbiamo soltanto sbloccato monstad e quindi selezioniamo monstad però fondamentalmente eccole qua queste sono le nostre daily ci indica cosa ognuna vi conferisce 10 prime agents quindi per un totale di 10 10 10 10 dal momento in cui le avete consegnate ottenete quello che vedete qui sotto quindi altre prime agents e altre cosucce materiali non so come farvi vedere quali sono però vi fidate di me le avete viste qui accanto ok allora facciamo queste daily la prima è qui davanti quindi direi che andiamo a farci la prima daily in assoluto che è proprio qui davanti per le altre ci se le porteremo di qua e di là eccoci qua ok piccione, papera e bambino parla con Timmy consiglio mio oggi ve le leggo ma di solito io le daily le skip non sto mai a leggere perché non è molto importante quello che viene detto nelle daily tranne in alcuni casi in cui vi sblocca degli achievement ma sono volte particolari ah sei di nuovo tu hai fatto scappare tutti i miei piccioni di nuovo li stavo dando da mangiare cosa hai da dire a tua discolpa ops beh mamma dice sempre che se qualcuno è davvero dispiaciuto te lo dimostra con le azioni e non con le parole i piccioni sul ponte sono i miei amici gli do sempre da mangiare ma ultimamente le papere vengono a rubargli il cibo e non ne rimane abbastanza per i piccioni vorrei che mi trovassi tre spighe di frumento e le dessi in passo dalle papere così nel frattempo potrò dare da mangiare i piccioni sul ponte quando entrambe le specie avranno mangiato abbastanza magari diventeremo amici non voglio fare amicizia con i piccioni no diciamo certo grazie se tratti bene gli animali potresti anche fare amicizia con loro quindi noi veniamo indirizzati adesso a dare il frumento a Timi mi ha dato direttamente a lui non va consegnato da tienicelo già al frumento sì ecco porta la laga e dallo in passo alle papere quindi noi scendiamo qui sotto e lo posizioniamo qua vicino a dove stanno le paperotte che vengono a mangiare il suo frumentino in santa pace e non rompono ecco qua questo è il punto in cui le lasciamo spargi cibo per le papere lasciato torniamo a parlare con Timi vedrete che molto spesso e volentieri le daily perdono un po' di vista ovviamente la storia principale e diventano proprio quelle mansioni giornaliere tipo questa missione banalmente di dare da mangiare alle papere cioè non ci sono daily che vi disbloccano delle cose da dire oh mio dio cioè no quello non si verifica però sono carine sono divertenti sono certo che andranno tutti d'accordo dopo un buon pasto la prossima volta che passi di qui per favore non spaventare i piccioni è difficile poi farli tornare farò più attenzione in futuro non è vero e va bene ti perdono tieni una frittella di patate di monstatt sono le mie preferite mamma dice che bisogna essere sempre gentili con gli altri dieci primo james queste adesso da questo giorno a quando ci sarà un banner che mi interessa inizierò ad accumularle diventano interessanti allora prossima che mettiamo in posizione è questa e ci teleportiamo ovviamente qui accanto al domenio del lupo oppure uccidi le papere risolvi il problema ottimo questa è la scelta quella un po' più aggressiva però è sempre una scelta valida assolutamente si uccidete le papere risolvete il problema certo da un punto di vista poi di crescita e biodiversità non è che si va a fare un grande favore alla natura già la selezione è molto cattiva però però nel caso in cui il fastidio sia dovuto dalla presenza delle papere si saluta le papere e ciao senza problemi dobbiamo uccidere loro sconfiggi tutti gli avversari spesso le idee li si alternano in missioni come questa del menare liberamente gente ecco Jin inizia già a fare i suoi risultati guardate come ha scoppiato tutti ma qui c'è da fare un discorso diverso qui c'è da bruciare lo scudo una volta abbiamo tirato giù per bene questo shield e inizieremo a menare anche il tipo che era tauntato quindi non stava guardando me ah e c'è Ozo che se ne strafrega e anche questo è molto divertente molto divertente con questi tipi è utilizzare Ozo da un lato spostarvi dall'altro e Ozo da dietro mena carina anche quella come cosa ti avevo tirato il coso per il tanto ma te ne sei andato antipatico cattivo è esploso adesso e quindi riguardi me non si fa così ok missione numero 2 fatta vedete alcune sono molto più rapide non tutti hanno una chiacchiera intrisa ok andiamo qua adesso abbiamo meno male un teleport anche qua per quello lassù sarà poi più una passeggiata una volta una volta l'ho fatto sì mi era molto arrabbiata sono tornata da lui ci redo gli aveva detto dai da mangiare alle papere così non rubano il mangiare i piccioni e lei gli ha ammassato le papere ma come si dice sono scelte sono scelte selezioniamo questo e andiamo comunque secondo me a livello di tempistiche con le daily ci siamo ci siamo aver fatto la nostra oretta io direi chiudiamo le daily e poi l'altro tempio e la parte 2 della storia cioè la parte 2 la parte 5 della storia la continuiamo altra cosa che ho fatto indirettamente ma è utile soprattutto all'inizio se finite la stamina mentre planate c'è un modo per non morire a meno che non siate a un'altezza tremenda se state cadendo con la stamina che finisce cliccate il tasto dell'attacco e atterrerete facendo un plange in attack quindi un attacco col plank quindi saltando e così facendo non morirete subirete un bel danno ma non morirete almeno che non saltiate dall'everest in quel caso morite lo stesso però se non morite non saltate dall'everest fidatevi che comunque è fattibile allora abbiamo questi simpaticissimi slime con questi è straconsigliato utilizzare il nostro amico Oz ecco qua infatti come potete ben vedere signor Oz si diverte ma anche la nostra signorina Amber Pyro per tirare giù questa barrietta con la fusione il melting è fantastica una volta che la barrietta è tirata giù torna al solito discorso del si mena a diritto a prescindere dall'elemento si sta a menare quindi questi sono tutti i piccoli consigli e tips che io vi do ok anche questa delire l'abbiamo fatta consegniamo l'ultima che è qua su quindi noi dobbiamo andare qua di nuovo e farci a piedi una chilometrata però tanto non l'avevo sbloccata quest'area perché mi diceva ero di livello troppo basso e lo ero uh Chris Alcor eh da stato mannaggia e però tanto vale sbloccarle adesso che siamo qua questo lo prendo almeno nucleo cristallino selezioniamo questo e andiamo guardate che mi dà fastidissimo tantissimo ecco avere anche quello io aprivo la mappa e mi trasportavo tre ore per tornare al punto anche quelle sono scelte anche quelle sono scelte alla fine ognuno penso che abbia i suoi trami di inizio gioco ci sarebbe da fare un format in cui ognuno confesse in maniera anonima i suoi trami di inizio gioco cassa con rovi si usa un attacco pyro si brucia ogni rovi si apre la cassa ora qui sono comparsi un simpatico trillo di amichetti però però penso che ognuno abbia i suoi trami iniziali tipo abbiamo qualcuno che come simone appunto che per i primi 15 livelli non sapeva cosa fossero i teleport chi moriva come Irene con la ruin guard e tante altre cose la stamina è in volo ce ne sono tanti di trami ragazzi io ho un ricordo che all'inizio inizio faccio inizio 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 ebbe un trauma dovuto al fatto che mi si resettava un nemico perché appunto ero troppo lontana ma mi è capatato una volta poi ho capito che era una cavolata e via e un'altra cosa che mi dava fastidio era quando affrontavo gli abismage con lo shield gli abismage con lo shield e non riuscivo a tirarglielo giù perché non capivo quale elemento utilizzare per cosa per esempio adesso so che quelli li rompete non se li menate ma se li attaccate con un attacco pyro sennò questo tipo di pietre viola non si rompono quindi andavi a menarli ti ferivi e non le tiravi giù sono tutte queste piccolezze che vi posso elencare che sono veramente tantissime le più disperate ognuno ha le sue allora quella è più raggiungibile visto che se no dobbiamo risaldire facciamo prima di qua ci sono tantissime meccaniche in questo gioco da questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti il gioco ha una meccanica che è veramente ricca vedete se io meno con un altro elemento questo sasso non succede niente mi faccio male io uccidiamo prima questo meno che ci rompe ma se io prendo faccio un caricato che diventa pyro e lo colpisco lo rompo e droppo la ricompensa quindi insomma insomma se Archie ha disimparato a giocare prima esploravo ora non esplora più niente Genshin senza l'esplorazione non è niente praticamente ma non non sono ironica sono seria alla fine se uno vuole far male vuole vuole sbloccare cose o esplorano non va avanti ora che ho sblocato il teleport posso tornare indietro andiamo io invece ho dovuto rifare 20.000 volte il fight con Child nella storia perché avevo i pg senza artefatti e me li scioglieva anche quello può essere stato un trauma io in realtà con i boss mi sono trovata abbastanza bene mi ricordo che la betta ebbe un po' un po' di trami con Child se non sbaglio io pensavo io pensavo che nella quest viola che hai fatto tu prima ho ammazzato le papere o pensando che ti mi sarebbe arrabbiato buttato lo stesso in mangime inutile dire che non fu così queste sono le tips belle queste sono le tips belle davvero ciao Demi grazie mille per il raidino grazie mille grazie e benvenuti a tutti ragazzi buonasera stiamo facendo il farming sul secondo account sul secondo account grazie mille per il follow ragazzi grazie Katia per il follow ben arrivata e quindi insomma stiamo facendo il farming sul secondo account ciao Demi buon pomeriggio ben arrivati amici l'ultima live dell'anno qua l'ultima live dell'anno signori e signori siamo arrivati alla fine di questo 2022 c'è anche una persona in più in questo 2022 Demi ciao ragazzi ciao ciao siamo sul secondo account ho trovato Jin a PT14 15 nel banner permanente secondo account regala soddisfazioni andiamo qui quest'amichetto ecco questo si è beccato una bella sleppa direi eccoci qua oh ma lui qui sotto chi l'aveva visto quante casse sì ma che bello essere a mossa deve spacchettare così mia morina vado a fargli bagnette grazie Demi grazie grazie e salutamelo 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 allora ecco qua l'ultima daily di oggi dovete sapere ragazzi che su quest'account abbiamo sbloccato le daily oggi perché abbiamo fatto la R12 le prime daily in assoluto la prima daily che mi hanno fatto fare sono stati piccioni di Timmy incredibile prima daily del secondo account i piccioni di Timmy certe cose non cambiano mai Oz è pronto sì vai tira giù lo shield Oz pensaci tu vai pensate che io nel mio account principale Jin ci ho messo praticamente un anno intero di gioco per trovarla l'ho trovata al posto della prima rerun di Utah per intendersi amici miei e le daily tra l'altro ragazzi vi danno un sacco di esperienza abbiamo fatto ora il 12 e Paolino grazie per il follow benvenuti in live ci ho messo un anno di gioco quindi vedete l'abbiamo finita e abbiamo qui sotto scritto ricompense in cariche giornaliere si torna a monstrat sono andate a parlare con la nostra Catherine la nostra Catherine e e lei praticamente ci dice bravi che avete fatto le daily tenete queste vai da ricompense e noi grazie 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 e Zaffolo grazie per il follow ben arrivato anche a te ciao ben arrivato ecco qua vedete come promesso ti metti la tua ricompensa riscatta la ricompensa degli incarichi giornalieri che sono ricompensate gli incarichi di oggi è così la ricompensa e queste sono le ricompense bene e questo vedete che è molto una meccanica che farete tutti i giorni diventerà il vostro incubo il dopo una giornata in cui siete stanchi morti siete stati all'università siete stati al lavoro siete stati a scuola vi buttate su il letto voglio solo dormire e morire e fate cazzo le daily e andate a computer a farle o aprite il vostro telefono il vostro ipad quello che è ecco qua più 500 punti esperienza e più 100 altri ecco qua le ricompense delle prime daily in assoluto 20 per la emergenza e 500 di esperienza c'è anche l'esperienza affinità che è un'esperienza alternativa di cui non vi ho mai parlato prima che è praticamente l'amicizia con i vostri personaggi da un punto di vista di gameplay non vi cambia niente però portare al 10 l'amicizia di un personaggio vi conferisce di avere la tessera quella che avete dietro al nome rappresentativa del personaggio stesso vedete se veniamo su Gin vedete che c'è qui scritto livello amicizia amicizia 1D il traveler che ho usato leggermente di più non ce l'ha perché è un personaggio che avete già dall'inizio quindi non ne avete gli altri invece sono tutti livello 1 perché giochiamo da relativamente poco quando avrete le tessera andrete qui andrete nella sezione quassù farete modifica dove sta cambia carta giocatore eccolo qua cambia carta giocatore guardate quante ce ne sono tra eventi passati battle pass passati che non potrete recuperare però ci sono tutte quelle dei singoli personaggi per esempio banalmente questa è quella di Amber e infatti c'è il simbolo del cognetto di Amber se uno porta Amber ad amicizia 10 e la porta solo giocandola aprendo le casse dei domain aprendo casse a giro aprendo le ricompense dei boss salirà il livello di amicizia quando arrivate al 10 così c'è un altro metodo per aumentare l'amicizia senza utilizzare i personaggi fai tutto il suo discorso delle casse che è quello di lasciarli nella vostra tipot ma la tipot si sbrocca dal 35 in poi quindi però non ne parliamo comunque si abbiamo trovato un 5 stelle ed è Jin e io direi ragazzi che con la quest principale ci possiamo fermare qua che dite mi sembra che siamo a un ottimo punto siamo a un ottimo ottimo punto qua quindi direi che possiamo essere soddisfatti continuiamo l'arcon questa è la prossima volta dobbiamo farci un altro tempio e poi succedono delle cose belle quindi lo vedremo però nella prossima parte sarà la prima parte di anno nuovo che uscirà sabato prossimo dell'anno nuovo ma chi mai grazie per il follow benvenuti in live quindi staremo a vedere non so che giorno in preciso capita dovrebbe essere il 7 se non sbaglio sabato 7 uscirà la prossima c'è questa parte che vedete adesso esce dopo domani quindi il oggi è giovedì sì dopo domani esce il 31 esce il 31 insomma vabbè comunque io vi ringrazio per essere stati qua con me in questa parte vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirmi su tutti gli altri social instagram cosplay di Genshin e per sapere tutto sulle live e sui video sito viola dove siamo in live per essere anche voi presenti nel video e ovviamente anche su tiktok e twitter e nell'applicazione di oil lab che anche lì ovviamente ho il content creator ufficiale e anche lì vi posto notizie sul gioco quindi vi ringrazio i ragazzi della chat vi saluto e ci vediamo al prossimo video youtube ciao 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 Grazie a tutti.